buongiorno ragazzi sono al terminillo quello laggiù in fondo è il rifugio sebastiani adesso me ne vado su faccio la vetta del terminillo la cresta sassetelli e poi ritornare al rifugio è un giro ad anello bellissimo molto panoramico andiamo ho cambiato versante e meno male perché di là c'era un vento atroce adesso mi aspetta un pezzettino abbastanza ripido dove probabilmente dovrò usare le mani e poi sono in cresta ho preso la iro 7 ce l'ho da qualche giorno la sto ancora testando spero di non cannare le inquadrature sono arrivato sulla vetta il panorama è più che discreto questa è la cresta sassetelli che percorrerò per poi legare verso destra e ridiscendere a valle verso il sebastiani e la macchina tira un vento congelato e qua c'è basta persino della nere la città la sosedella è una cresta favolosa, tira un vento pazzesco al momento e c'è anche qualche tratto abbastanza esposto. qui alla cima del terminillo dove ero prima questo è tutto il tratto di cresta che ho percorso fino adesso, guardate che bello sono più o meno a metà percorso, ho trovato riparo dal vento dietro questo grosso masso, adesso ne approfitto per prepararmi qualcosa da mangiare ho portato una busta di Bivo, Bivo è un pasto in polvere per l'outdoor, completo e bilanciato, prodotto da una start up italiana vi ho già parlato in un altro video e ve lo linko in descrizione, la novità di oggi è che l'azienda è stata così gentile da darmi un codice sconto per voi quindi andate sul sito di Bivo e al momento dell'acquisto inserite il codice LANDSCAPE10 per ottenere un 10% di sconto e poi andate sul sito di Bivo e al momento dell'acquisto di Bivo e al momento dell'acquisto di Bivo ho abbandonato la cresta e ho imboccato il 403 e mi riporterà a valle verso il Sebastiani questo è il 403, il sentiero che seguirò io adesso, questa qui è la vetta del Terminillo, da dove sono venuto no guardate che bello il sentiero che mi porterà fino al Sebastiani passa proprio sotto la parete nord del Terminillo nel frattempo c'è un elicottero proprio in vetta sembra proprio un elicottero dei vigili del fuoco del soccorso alpino speriamo che non sia successo niente a nessuno non che belli ghiaglioni a fine escursione specialmente in salita ok ragazzi sono le 11 quindi dopo circa tre ore e mezza di camminata lì c'è la strada quindi ho completato il mio anello grazie per essere stati con me era tanto che non venivo a fare una bella escursione in montagna devo dire mi sono divertito molto se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure io sono anche su facebook e su instagram vi lascio come al solito tutti i link in descrizione state bene ragazzi e ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao